Allora, poco più di una settimana dalla giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati che celebreremo domenica prossima è arrivato un premio, un premio per il progetto dei corridoi umanitari che, lo sapete, sono voluti e realizzati dalla Conferenza Episcopale Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, la Tavola Valdese e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, chiaramente con la collaborazione del governo italiano. Si tratta dell'edizione regionale per l'Europa del premio Nansen, che viene conferito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite proprio per i rifugiati. I corridoi umanitari sono stati premiati per aver assicurato a migliaia di rifugiati un canale di protezione e di possibilità anche di costruirsi un futuro migliore in Italia e anche nel mondo. La premiazione ci sarà proprio giovedì prossimo all'ambasciata norvegese qui a Roma.